Ci parleremo di un modello di design per i siti web dei comuni italiani. Il webinar durerà un'ora e trenta come sempre. I nostri relatori di oggi sono Lorenzo Fabri del Team Digitale, Daniela De Blasis di Agid, Roberto Castigliano e Antonio Pascalis del Comune di Cagliari e Roberta Tassi che ci parleranno appunto di questo progetto di design system per i siti web dei comuni italiani. Allora, prendo un po' di tempo per dare modo a tutti di collegarsi e vi ricordo che questo webinar, come anche gli altri di questo ciclo, sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agid e Formats PA, Italia Login Servizi Digitale, appunto con l'obiettivo di facilitare la digital transformation della nostra pubblica amministrazione. Allora, ripartiamo da un discorso che già abbiamo aperto in precedenti webinar, quello delle linee guida di design per i servizi digitali dell'APA. Infatti Agid e Team Digitale hanno lavorato a queste linee guida di design, come anche a questo design kit, ovvero strumenti di lavoro utili a tutte le pubbliche amministrazioni, a chi si occupa di progettazioni di servizi online, di siti web, che sono alla portata di tutti e che offrono una serie di strumenti operativi in tutte le fasi progettuali di un servizio online. Quindi riprendiamo da questo discorso per parlare oggi proprio del prototipo di siti web per i comuni italiani, quindi ci focalizziamo su questo specifico target, appunto molto sentito in quanto spesso i comuni, soprattutto i piccoli comuni, non hanno le risorse e anche le competenze magari interne per poter progettare in modo qualitativamente alto servizi o progetti. Quindi in questo il team Agid ci aiutano in quanto in questo progetto per i siti web dei comuni italiani hanno definito un modello a partire proprio dai bisogni dei cittadini, quindi partendo da un coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti in un sito web, si va a modellare sulla base di esigenze concrete per disegnare flussi di lavori che siano più possibili chiari o comunque vicini alle esigenze dei cittadini. Quindi l'obiettivo di questo team è quello di arrivare a un modello ideale di sito web che abbia tutti gli strumenti, i servizi, la documentazione o comunque che abbia uno studio approfondito dietro a quella che è appunto il disegno di un sito web che tendenzialmente appunto vorrebbe arrivare insomma al modello ideale che poi ovviamente tutti i comuni possono comunque personalizzare a seconda delle proprie esigenze specifiche, però sicuramente partire da una base comune aiuta tutti nel percorso di progettazione che poi in qualche modo ovviamente può essere definito e personalizzato sulle specifiche esigenze della pubblica amministrazione di cui stiamo parlando. Quindi se si tratta anche di avere, se la pubblica amministrazione ha un logo specifico con colori specifici sicuramente personalizzerà poi il sito sulla base di queste esigenze. Allora, venendo al programma specifico di oggi abbiamo Lorenzo Fabri che ci parlerà appunto di questo progetto, del prototipo per i siti web dei comuni d'Italia, del sito digitale, Daniela De Blasis di Agid che ci parlerà dello user interface kit della pubblica amministrazione italiana e abbiamo il progetto pilota del comune di Cagliari che ha applicato proprio questo prototipo nella progettazione del proprio sito web del comune di Cagliari e abbiamo diciamo l'equip di lavoro è composta da Riccardo Castrignanò, Antonio Pascalis e Francesco Sogos. Finiremo il webinar con il kit di user research e service design con Roberta Tassi del team digitale. Ricordo a tutti che potete porre le domande in chat ai relatori, noi le selezioneremo e gliele porremo al termine del loro intervento e che la registrazione e i materiali saranno pubblicati sulla pagina dell'evento di oggi ovvero questa che vediamo qui, questo è il link. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che la prossima settimana il 20 novembre parleremo del progetto Comunica Italia, un progetto sulla promozione dei servizi online e quindi guide, consigli e kit per le strategie di comunicazione, marketing e storytelling delle pubbliche amministrazioni. Quindi se volete potete già iscrivervi. Allora a questo punto direi di avviarci, entrare nel vivo del tema di oggi in modo che appunto i diretti attori di questo progetto ci possano raccontare quello che è stato fatto riguardo alla prototipazione di questi siti web per i comuni italiani. Quindi chiedo a Lorenzo Fabri di attivare la propria webcam e il microfono. Nel frattempo vedo che siamo già a 310 collegati al webinar, quindi direi di cominciare con la presentazione di Lorenzo. Benissimo Lorenzo, grazie e a te la parola. Grazie Michela, grazie per l'introduzione. Io sono Lorenzo Fabri del team per la trasformazione digitale, ho seguito questo progetto dedicato ai comuni come declinazione della piattaforma Designers Italia. Tengo a dire che il lavoro che abbiamo fatto dall'inizio è quello di favorire lo sviluppo di strumenti e di un approccio metodologico che metta al centro il design dei servizi e soprattutto i bisogni dei cittadini nella progettazione. Poi ci siamo anche resi conto che naturalmente in una realtà complessa e articolata come la pubblica amministrazione sia assolutamente importante fornire degli strumenti pratici, quindi il nostro approccio dall'inizio non è stato quello delle linee guida, ma è stato quello di rafforzare l'utilizzo e la diffusione di kit, di strumenti, di punti di partenza che permettano a qualsiasi amministrazione a seconda del progetto che deve sviluppare di avere degli strumenti di lavoro e anche dei punti da cui partire. Diciamo che sono un po' i due aspetti, da una parte c'è bisogno di evitare che la pubblica amministrazione debba reinventare la ruota ogni volta e dall'altra c'è la necessità di avere degli strumenti metodologici per innescare delle attività per esempio di ricerca con gli utenti e di prototipazione che permettono di progettare dei servizi che di fatto rispondono ai bisogni delle persone. Quindi diciamo che il modello per i siti dei comuni in Italia è l'idea appunto di evitare questo problema che a volte si verifica di dover dedicare troppa energia a reinventare ogni volta la ruota quando sappiamo che i siti dei comuni in Italia rispondono a un set di bisogni standard abbastanza identificabili. Poi andremo nel merito di questo aspetto, perché ovviamente la nostra ambizione non è ovviamente quella di progettare qualsiasi modello di esperienza e di servizio del sito di un comune, quanto di costruire uno scheletro, un punto di partenza, una struttura che permette di ospitare una varietà di servizi. Quindi avere questo strumento a disposizione ovviamente in modalità open source acquisibile da qualsiasi progetto in modo che i comuni, le software house, le agenzie web o qualsiasi soggetto che lavora sui progetti web possa partire da lì per avviare il lavoro. Probabilmente questo facilita anche la collaborazione tra comuni, perché se favoriamo lo sviluppo di standard, questo riguarda gli standard di design, riguarda lo sviluppo di speed e di pago PA, sarà più facile poi anche per gli stessi comuni scambiarsi e condividere esperienze tra di loro. E poi come dicevo prima, creare un punto di ingresso un po' più semplice, un po' più operativo per il design dei servizi, quindi per un metodo di progettazione che metta insieme tecnologia e bisogni delle persone. Questo progetto, come è ovvio che sia, nasce sul territorio e si basa in particolare sul ruolo chiave del Comune di Firenze, su una larga condivisione di progettualità ed esperienza della Regione Veneto, di tutti i comuni del Veneto e del Comune di Cagliari. Dell'esperienza del Comune di Cagliari poi vi parleranno nello specifico Antonio e Riccardo. In generale io sicuramente posso dire che siamo partiti dall'esperienza del Comune di Firenze e del suo progetto di redesign del sito web, quindi devo ringraziare Gianluca Vannuccini, Leonardo Ricci e Barbara Tonetto. Abbiamo lavorato molto con il team di Antonino Mola e con Piero Luisi per quanto riguarda Regione Veneto e il progetto legato ai comuni del Veneto e poi appunto con il Comune di Cagliari che, come vi abbiamo anticipato, sta provando a sviluppare il primo prototipo e soprattutto ci sta supportando con un suo team dedicato nel mettere alla prova le cose che abbiamo realizzato e nel cercare ovviamente di aiutarci a migliorarle. Un'altra cosa importante è che questo progetto sfrutta a tutti i kit e gli strumenti che sono dentro Designers Italia e a sua volta contribuisce a crearli. Il nostro approccio non è un approccio teorico per cui abbiamo costruito dei kit basati dall'alto, ma usiamo i progetti operativi per generalizzare poi dei kit e degli strumenti. Quindi questo progetto concretamente ha alimentato per esempio il Wireframe Kit e lo UI Kit e di questo poi vi parlerà Daniela quando vi racconterà un po' lo stato di avanzamento di questi due strumenti di prototipazione. Come sapete Designers Italia, lo ripeto perché credo che sia rilevante, cerca di coprire tutto il ciclo di progettazione di un servizio dalle attività di ricerca con gli utenti alle attività di sviluppo del servizio. Un aspetto importante ed è inevitabile parlarne in questa fase è stata l'attività di ricerca e di raccolta l'informazione sui bisogni delle persone. Per cercare di prioritizzare ovviamente le necessità di un sito del comune e siamo partiti da lì. Quindi sarà un intervento che è quello di Roberta Tassi che concluderà questo ciclo di discussione sul tema dei comuni che ci racconterà come è stata fatta l'attività di ricerca sugli utenti, con gli utenti su questo progetto e quali esiti ha dato. E ovviamente quali sono poi i prossimi passi perché sappiamo benissimo che bisognerà assolutamente continuare ad alimentare con ricerche con gli utenti questo progetto e tirarne fuori informazioni per farlo evolvere. Sicuramente i comuni fanno di tutto, è uno dei cosiddetti touch point, quindi punti di contatto tra pubblica amministrazione e cittadino più importanti in assoluto, come sono ovviamente le scuole, come sono ovviamente gli ospedali. Sappiamo benissimo che è una realtà estremamente varia e complessa, quindi la nostra ambizione non è quella di progettare tutti i possibili servizi che un comune può erogare, non è questo il piano di azione, ma il nostro lavoro è stato quello di individuare dei pattern, degli elementi ricorrenti, modellizzarli e utilizzarli appunto per costruire un sito web, quindi per fare design dell'informazione e per costruire dei pattern, cioè dei comportamenti ricorrenti legati all'esperienza di utilizzo di determinati servizi. In pratica che cosa vuol dire? Vi faccio un paio di esempi, questo è l'esempio della sezione dedicata ai servizi che ha una struttura fissa di presentazione dei servizi, che mette in evidenza una serie di informazioni di base che servono a chiunque vuole utilizzare un servizio, sapendo che poi questo servizio potrà essere erogato in forma digitale allo sportello in una forma mista, tipo fare richiesta, come iscriversi, cosa serve per ottenere questo servizio, quali sono le scadenze da rispettare, se ci sono eccezioni o casi particolari, poi naturalmente le varie note di approfondimento. E questo è il pattern di flusso legato a un servizio, che sostanzialmente prevede un avvio della procedura da quella che avete visto essere una scheda servizio, tutto in una fase a step di inserimento dati da parte di un utente, una parte di riepilogo e verifica, conferma i prossimi passi e poi ovviamente tutto un sistema di aggiornamento basato sulla evoluzione della procedura. Quindi la modellizzazione di un flusso base che l'utente deve aspettarsi quando attiva un servizio online. Oppure dei pattern negati alla ricerca di informazioni sul sito web, per cercare di rendere l'attività di ricerca che spesso viene un po' trascurata rispetto ad altre sezioni del sito, un po' più sofisticata ed efficace, mettendo in evidenza che c'è necessità di classificare le informazioni in modo un po' più strutturato e attivare delle funzionalità di filtering e di sorting delle informazioni per aiutare l'utente che cerca informazioni, soprattutto in siti complessi, pieni di contenuti e stratificati, perché si portano dietro una storia di anni, come sono quelli dei comuni. Ma se non classifichiamo a monte le informazioni in modo corretto, poi è molto difficile estrarre conoscenza. Il progetto si basa sulla creazione di un team dedicato, che punta sull'idea di costruire valore attraverso questo metodo del design dei servizi. Ci abbiamo lavorato insieme a Daniele, a Giulio, a Laura, a Roberta e ad Alberto. Il metodo di lavoro che abbiamo seguito si basa sugli strumenti che voi conoscete, perché ne abbiamo parlato anche in webinar precedenti, che sono le piattaforme, gli ambienti aperti di discussione e di lavoro, Designers Italia, Developers Italia, Forum Italia e Docs Italia. Tutti questi strumenti favoriscono la diffusione di un ambiente aperto, dove si condividono metodologie di lavoro comuni. Il progetto si rivolge naturalmente agli stakeholder e a tutto il personale dei comuni italiani, perché propone una visione di che cosa deve essere oggi i servizi digitali di un comune. E poi a tutto il mondo dei fornitori di servizi, alle comunità open source che lavorano sulle attività e servizi digitali dei comuni. E favorisce sicuramente un'attività di coordinamento centrale, perché incomincia a modellizzare almeno alcune cose di base, evitando veramente che ci sia un approccio totalmente scollegato tra le attività di un comune e l'altro. Non abbiamo tempo per entrare nel merito di tutte le fasi del progetto, ma ci tengo a dire che tutte le cose che vi sto raccontando, oltre a essere in questa forma, saranno pubblicate nelle prossime giorni o settimane sotto forma di documentazione di progetto attraverso la nostra piattaforma che si chiama Docs Italia, che è a disposizione per tutti i progetti della pubblica amministrazione per pubblicare documentazione di progetto in modo aperto e commentabile, e quindi favorire di fatto la discussione intorno ai progetti pubblici. Oggi siamo sicuramente in questa fase in cui insieme al sito di Cagliari stiamo mettendo a terra un primo sito di un comune e utilizzando questa esperienza per migliorare il nostro modello. Il progetto che abbiamo costruito si basa sull'isolare alcuni concetti di base legati al sito di un comune, il tema dell'identità, la centralità dei servizi, che è poi ciò che i cittadini cercano di più, e la necessità di organizzare, soprattutto di classificare le informazioni in modo un po' più strutturato, per rispondere ai bisogni informativi degli utenti, oltre al tema della trasparenza, che è sempre da sempre molto presente e rilevante, soprattutto per il tema di amministrazione trasparente, che è un'attività, diciamo, rilevante e anche onerosa per i comuni che la devono gestire. Abbiamo profilato un po' le diverse tipologie di utenti del sito di un comune e abbiamo cercato di modellizzare che cosa fanno le persone e anche le imprese e altri soggetti che utilizzano il sito di un comune. Quindi conoscere l'amministrazione, scoprire cose da fare in città, accedere ai servizi, ricevere sostegno e opportunità da parte del comune, lavorare con il comune, partecipare alla vita della comunità e risolvere problemi o segnalare la presenza di problemi. Da qui è nato questo concept di sito web e diciamo che si basa su alcuni concetti che sono, uno, una semplificazione della struttura che è ora organizzata in notizie, documenti, servizi e amministrazione. Due, un approccio mobile first, per cui tutto il progetto è stato prototipato pensando prima al mobile, quindi creato prima il mobile e poi esteso al desktop. Flessibilità, quello sviluppo di pagine argomento che consentono di fatto di organizzare i contenuti sulla base di ciò che cercano le persone più che ovviamente sulla logica degli uffici, ma tenere conto ovviamente dell'importanza poi degli uffici e quindi poter collegare per esempio la pagina di un ufficio dove viene presentato sostanzialmente l'attività di un'area del comune agli argomenti di cui questo ufficio si occupa. E poi l'aspetto, ecco, questo per esempio è l'esempio che vi citavo poco fa. L'idea è che debba esistere un'area personale con un centro messaggio al cittadino e quindi una serie di notifiche che permettono poi al cittadino di restare aggiornato sulle procedure, sulle scadenze a sua disposizione, la possibilità di personalizzare il sito ovviamente con gli elementi di identità del comune. Non abbiamo il tempo per entrare nel merito della struttura e dei flussi di user SPI, insomma vi lascio questo materiale ovviamente a disposizione e come vedete il lavoro è piuttosto strutturato in modo da consentire di fatto di entrare nel merito della struttura anche del design dell'informazione di un sito di un comune in modo specifico e quindi strutturare le informazioni il più possibile. Questo credo che sia un passo in avanti rispetto diciamo alle modellizzazioni classici che vengono fatte diciamo che non si spingono così nel dettaglio. La struttura è un incrocio, una matrice di content type e sostanzialmente una tassonomia argomenti e i content type sono sostanzialmente quattro e ci sono i servizi, le informazioni, i documenti le schede legate all'amministrazione. Quindi diciamo con un modello di templating relativamente semplice quattro template di base si struttura tutta l'informazione legata al sito di un comune. Abbiamo prototipato sugli scenari d'uso quindi il nostro approccio è stato quello di definire tutta una serie di scenari e utilizzare questi scenari per poi creare il sito web e non l'opposto. Questi scenari di fatto e li possiamo vedere velocemente sono stati approfondire un tema importante per la città scoprire gli eventi in programma e l'orario di apertura di uno spazio espositivo iscrivere un figlio all'asilo nido individuare l'ufficio competente su un argomento e prenotare un appuntamento fare richiesta per la pubblicazione di matrimonio. Ovviamente questi scenari non sono esaustivi della quantità di cose che puoi fare sul sito del comune ma come vi dicevo poco fa sono essenzialmente l'occasione per costruire un sito che parte dai bisogni delle persone e quindi noi diciamo partendo da questi scenari abbiamo costruito dei prototipi che descrivono esattamente il flusso che tu sul sito web farai per individuare l'ufficio competente su un argomento prenotare un appuntamento questo è l'esempio. Ovviamente la somma di questi scenari messi tutti insieme consente di fatto di progettare l'insieme delle sezioni di cui si fa si ponde al sito che è la prima colonna di questa tabella che vedete questo approccio è utile perché consente di fatto di progettare un sito internet partendo dai bisogni specifici delle persone e da questo derivando una struttura generale e non viceversa quindi tendenzialmente è una garanzia di maggiore attenzione alle priorità dei cittadini. Prossimi passi già oggi sul forum forum.italia.it esiste un thread di discussione su questo progetto io torno a dire non ci aspettiamo che questo progetto da solo risolva tutti i problemi dei siti e dei comuni perché non è neanche questo la prospettiva la prospettiva non può essere quella di risolvere a livello centrale le problematiche o la strategia dei servizi di un ente locale quanto di fornire un punto di ingresso uno strumento di supporto e un punto di partenza per ogni comune italiano che voglia ovviamente evitare di reinventare la ruota ogni volta e concentrarsi su alcuni aspetti di base legati allo sviluppo dei servizi specifici che sono poi il cuore delle attività di un comune e aggiornamenti su questo progetto sono su designers.italia e naturalmente tutto vivrà anche su livello per sitalia nelle nostre due community di designer e di sviluppatori che lavorano sempre insieme nel supporto ai progetti della pubblica amministrazione credo che il tempo a mia disposizione sia concluso e tanto adesso avremo una serie di sessioni verticali che ci permetteranno di approfondire i diversi aspetti grazie per ora grazie grazie Lorenzo per il tuo intervento appunto già ci hanno chiesto le slide in modo da appunto studiare più nel dettaglio questo prototipo che avete definito allora sono arrivate giusto due domande quindi se vuoi attivare la webcam te le pongo Matilde chiede se ipotizzate di creare un modello anche per le regioni dunque in questo momento Designers Italia ha pensato di partire dalle scuole dai comuni credo per motivi abbastanza ovvi nel senso che i comuni e le scuole sono una realtà estremamente numerosa stratificata fatta spesso anche di piccoli soggetti e quindi beneficiano di più dal fatto di avere degli standard le regioni sono delle realtà grandi e hanno la loro capacità autonoma quindi non dico che non ci sarebbe necessità di standardizzare ovviamente e di avviare un adeguamento al modello di service design che stiamo proponendo ma credo che poi le regioni possono essere anche autonome nel faro nel senso che Designers Italia e i kit di design sono già a disposizione delle regioni italiane che vogliano utilizzarli per fare ricerca service design per rifare i propri front end magari cercando di utilizzare componenti di UI più adeguate nel caso in cui abbiano dei problemi da risolvere o la necessità di migliorare la situazione attuale allora un'ultima domanda Antonino chiede se avete definito anche degli aspetti grafici come font dimensione caratteri eccetera in modo da migliorare l'accessibilità del sito se anche questo aspetto dell'accessibilità è stato affrontato decisamente sì nel senso che prima di tutto tutto il progetto si basa su una logica mobile first questo significa che il sito web è progettato partendo dal diciamo da una logica task based quindi l'utente ha un problema una cosa che deve risolvere e deve arrivare al risultato secondo tema deve arrivarci anche su un dispositivo di piccole dimensioni questo diciamo è la nostra prima garanzia di costruire un prodotto fortemente usabile poi ovviamente c'è tutto un tema specifico legato all'accessibilità come sappiamo e questo tema noi lo stiamo trattando a livello di sistema quindi a livello del nostro in particolare del nostro UI kit quindi non c'è diciamo una strategia specifica per quanto riguarda i comuni quanto la realizzazione l'attualizzazione delle cose che sono state messe a disposizione dallo UI kit di cui parlerà Daniela tra poco ok un'ottima domanda chiedono se il tema è il progetto rilascio del tema anche per Drupalotto ecco allora diciamo che prima di tutto noi non siamo una struttura centrale che rilasciamo temi per CMS non possiamo risolvere tutti i problemi diciamo dei comuni italiani non è neanche nostro obiettivo di base noi come community però vogliamo supportare lo sviluppo dei temi per i principali CMS quindi diciamola in questi termini siamo assolutamente interessati a far partire delle collaborazioni anche con altri comuni oltre a quello di Cagliari che possano sviluppare in Drupal o sviluppare in Wordpress per sostanzialmente poi generalizzare delle soluzioni e mettere a disposizione della comunità prima avevo segnalato il forum e con questo concludo perché effettivamente se ci sono persone che stanno riflettendo sullo sviluppo sull'adeguamento sul cambiamento del sito dei propri comuni quel thread sul forum può essere diciamo uno spazio per discutere della situazione e capire se sono magari dei punti di collaborazione perché questo progetto ha bisogno di essere fatto con gli enti locali con le realtà locali non può essere ovviamente e lo stiamo facendo così quindi adesso abbiamo un insieme di partner se poi naturalmente nel corso del tempo ne arrivano altri questo ci permetterà di arricchire progressivamente il materiale che mettiamo a disposizione di tutti grazie va bene grazie Lorenzo direi di passare all'intervento di Daniela De Blasis quindi le chiedo di attivare la sua webcam e il suo microfono benissimo Daniela grazie ti lascio la parola per la tua presentazione eccoci ciao sono Daniela De Blasis sono un divenente di Agile collaboro con il team per la trasformazione digitale mi occupo di design di interfacce nel progetto Designers Italia ho curato la costruzione dello UI kit del Warframe kit e la sezione delle linee guida riguardanti appunto la user interface oggi parliamo dello UI kit ossia appunto dell'user interface kit un insieme di componenti grafici pezzetti di design come bottoni campi dove inseriamo i dati header icone gallerie di immagini footer insomma tutto ciò che serve per mettere in piedi l'interfaccia di un sito costruire quindi l'aspetto di un sito e le interazioni per interazioni intendiamo i comportamenti ossia i cambiamenti che avvengono quando l'utente interagisce con dei componenti molti di questi componenti variano anche l'aspetto al passaggio del mouse o del click questi aspetti si chiamano stati del componente dunque nello UI kit quindi oltre ai componenti in sé sono rappresentate anche le variazioni che avvengono in conseguenza di un'azione l'insieme di questi componenti e delle variazioni si chiama libreria nelle slide potete vedere degli esempi presi appunto dallo UI kit il primo esempio riguarda dei componenti di selezione come radio button con tutte le varianti i campi di input dove si inseriscono tendenzialmente i dati e vedete in tutti gli stati di errore avvertimento successo e così via esempi di pagers le misure da adottare per l'uso dei bottoni ed ancora c'era qualcuno prima che chiedeva informazioni inerenti la tipografia si c'è tutta una sezione adesso qui vedete soltanto un esempio ma c'è tutta una sezione relativamente alla tipografia all'uso del font un tipo di interlinea spazi rientri insomma sono segnate c'è una sorta di style guide su come utilizzare appunto la tipografia poi vedete anche insomma le griglie che servono a mettere insieme i vari componenti tutti questi componenti ce ne sono a centinaia comprese le varianti sono costruiti con una struttura che è pensata e ragionata per essere utilizzati un po' come le lego cioè come dei mattoncini che assemblati insieme costruiscono la pagina e il sito i componenti fisicamente come si presentano cioè sono inclusi in un file un file di sketch 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 è un software che permette di creare dei prototipi interattivi la scelta di questo software è legata diciamo ad alcune caratteristiche fondamentali quella più importante è la possibilità di gestire una vasta libreria di componenti e di poterlo fare in modo trasversale a tutti i file che vogliamo creare cioè se viene modificata a monte la libreria madre è possibile aggiornare i file su cui si è lavorato in modo automatico cioè l'aggiornamento può avvenire in modo automatico e a cascata in alternativa per chi non può utilizzare sketch è possibile importare questo file in altri software di prototipazione possono essere ad esempio experience design dell'adobe ed è gratuito studio figma e così via il file sketch si trova in un repository repository di github che trovate al link qui presente nelle slide una volta scaricato questo file appare in questo modo dunque vedete nella sezione di sinistra una serie di macro categorie che sono i colori la navigazione la tipografia bottoni e così via in ognuna di queste macro categorie sono raggruppate tutta una serie di componenti cliccando infatti su una di queste come la navigazione appariranno poi apparirà tutta una serie di artboard o tavole chiamiamole così e in ognuna di queste c'è un componente con tutte le varianti dunque questo file dicevo prima può essere caricato come libreria all'interno del software che cosa succede dal software posso vedere qui sempre sul lato sinistro caricato una serie di librerie che hanno questo simbolo ad anelli e c'è Italia UIKit 2.0 che è appunto la libreria di cui vi sto parlando la libreria dello UIKit c'è anche la libreria del WebframeKit che è un altro kit di prototipazione e dalla libreria in base a quello che mi serve io posso pescare i vari pezzi in questo caso dalla macro categoria di navigazione vado avanti in base a quello di cui ho necessità posso utilizzare posso prendere tabs pager menu link list e così via e a loro volta ci sono le varianti posso usare una tab con o senza icone quindi solo testo e così via e montare poi man mano l'interfaccia montare un'interfaccia che vuol dire mettere in piedi un prototipo che si avvicini il più possibile al risultato finale cioè al sito web reale per questo motivo questo tipo di prototipo viene definito ad alta fedeltà ed è diciamo la fase finale del design la fase che avviene prima della programmazione cioè prima di avere il sito online quindi in altre parole è la traduzione in visual design di tutta la fase di ricerca e progettazione che è stata fatta fino a questo momento queste tutte le fasi dalla ricerca alla progettazione alla realizzazione eccetera si trovano sul sito di designers italia con i relativi kit allora nella questa slide ho riportato due esempi di di prototipi presi da docs italia e dal progetto comuni di cui appunto vi parlava Lorenzo prima tutti gli elementi che vedete dal campo di ricerca le cards eccetera sono stati presi dallo UI kit e nel caso dei comuni i componenti disegnati da zero sono confluiti nello UI kit quindi hanno contribuito ad alimentare il kit come vedete nel caso del progetto dei comuni i componenti del kit sono stati anche personalizzati dunque ogni elemento della composizione ha delle proprietà come la forma e il colore e queste proprietà ci permettono di dare un significato un significato quindi al componente cioè queste proprietà associate a un elemento danno un significato in modo tale che noi utenti compiamo poi una certa azione in conseguenza ad esempio tornando alla slide precedente le cards del primo esempio di docs italia sono create in modo che attraverso l'uso di alcune proprietà come la spaziatura l'icone il colore la griglia noi visitivamente le percepiamo come due gruppi distinti tra loro di elementi similari cioè documenti in evidenza un gruppo di elementi simili ultimi documenti usciti di item quindi nel visual design la forma il colore la dimensione l'orientamento la posizione la tipografia che è molto importante servono a dare un significato al componente e noi lo interpretiamo in base a questa proprietà cioè facciamo delle azioni in base a come sono applicati nell'UI kit ad esempio abbiamo quattro tipi di bottoni dal primary al quadernary nel senso che sono ordinati per importanza quindi il primario sarà più importante del secondario e così via questo che cosa ci permette di fare? ci permette di distinguere visivamente due azioni diverse quindi in questo caso un'azione positiva di conferma prosegui e un'azione secondaria negativa che può essere un indietro una zera tutto e così via per questo motivo nel kit i componenti sono costruiti in un certo modo la tipografia ad esempio ha una scala che va dal titolo più importante che chiamiamo H1 che è il titolo quindi delle pagine fino ad arrivare e da una misura specifica al sottotitolo eccetera fino ad arrivare alle note a margine e alle diascalie e così via questo è un esempio di cattivo design è un esempio classico per far capire quando non c'è appunto progettazione non c'è gerarchia quindi diciamo tutto quanto detto fino adesso è insomma uno degli obiettivi più importanti dell'aspetto esteriore di un sito c'è il significato che certe proprietà estetiche danno ai componenti chiaramente lo stile di un'interfaccia parlando sempre di colori forme tipografie generano una risposta emozionale che può essere appunto che è appunto la riconoscibilità di un servizio la riconoscibilità di un brand però diciamo questo è un aspetto del visual design non è soltanto quello anche se purtroppo poi spesso l'aspetto visivo è quello che maggiormente attira il gusto personale però diciamo la questione del gusto personale è quella che andrebbe più minimizzata a favore della navigabilità e usibilità di un sito dunque diciamo l'uso corretto di uno standard di un design system come Designers Italia dà oltre al vantaggio di costruire un'interfaccia usabile anche dei benefici molto importanti soprattutto gli utenti utilizzano in modo più rapido e con facilità dei percorsi che hanno già imparato che riconoscono cioè possono predire dei comportamenti basandosi su una propria esperienza e c'è una riduzione di costi una riduzione di costi proprio come diceva Lorenzo prima cioè è inutile stare ogni volta a reinventare 8000 volte la ruota ma c'è un riuso di design e di codice sono dei pacchetti già pronti e utilizzabili infine anche una riduzione di costi di supporto assistenza agli utenti perché gli standard incrementano una facilità d'uso ed apprendimento per chi è interessato ai design system c'è un repo dei vari design system del mondo oltre al governo americano australiano società come Google e IBM c'è anche Designers Italia dunque lo UI kit così come anche altri kit di designers e il web toolkit che è la traduzione in codice dello UI kit è un progetto open source cioè chiunque volesse può insomma può partecipare lo può fare in vari modi chi più è dentro al design si vuole cimentare a costruire nuovi componenti oppure implementare quelli già esistenti lo può fare seguendo le istruzioni su Github mentre magari chi semplicemente vuole osservare commentare lo può fare su Invision Invision è una piattaforma di condivisione nella slide trovate tutti i link e su Invision è possibile appunto postare per ogni artboard dove è presentato un componente un eventuale commento o insomma un pensiero se ci sono problemi magari come dicevo prima se ci sono riscontrate delle incongruenze oppure pensate che c'è un componente da migliorare insomma dare un vostro contributo è possibile farlo in questi modi o dalla piattaforma di GitHub o da Invision sia per quanto riguarda lo UI kit sia per quanto riguarda il web toolkit grazie 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 Daniela per questa panoramica grazie molte allora non ci sono particolari domande in questo momento visto che siamo anche un po' in ritardo magari le rimandiamo alla fine del webinar quindi direi di passare la parola al comune di Cagliari e vediamo appunto un'esperienza reale di applicazione di questo prototipo appunto definito da team e Agit nella realtà del comune di Cagliari quindi chiedo a Roberto Castigliano per favore di attivare eccolo la sua webcam e il suo microfono in modo da parlare appunto di casi concreti di applicazione di questo modello di design grazie Riccardo a te Laura Buongiorno buongiorno a tutti e bentrovati allora vi porto l'esperienza del comune di Cagliari sul progetto di reingegnerizzazione del portale istituzionale e incominceri a raccontarvi un po' il contesto entro cui l'amministrazione si è mossa nelle tematiche dell'innovazione digitale allora Cagliari è sempre stata legata al mondo dell'innovazione rappresenta quindi un ecosistema efficiente che ha radice solide ancora prima che economiche di tipo culturale possiamo ricordarci che Cagliari è nel 1994 ha portato su il primo internet service provider è la città che si chiama video online è la città di Piscali e la città in cui il primo quotidiano cartaceo ha emigrato verso il web è una città che non si è mai posta ai margini delle dinamiche dell'innovazione nonostante le difficoltà logistiche quelle proprio di essere in un'isola il background su cui stiamo lavorando non è solamente un background urbano perché? perché la crescente urbanizzazione e aggregazione di comunità territoriale a scala metropolitana lo sviluppo sostenibile e il coinvolgimento dei cittadini l'attrattività economica e culturale sono temi che sono fortemente impattati dalla digital transformation la digital transformation ha un impatto forte in che senso? sulle relazioni sui mercati sugli strumenti che mette a disposizione sui nuovi scenari che questi strumenti consentono di creare e in questo senso la tecnologia digitale si è rivelata un significativo fattore di cambiamento per la pubblica amministrazione le strategie di sviluppo economico e locale fondate sull'utilizzo della tecnologia digitale sulle redi web sul mobile sui social network si innestano in un background urbano che ha già intrapreso un percorso virtuoso di transizione verso un modello di smart city in linea con l'agenda digitale europea e con l'agenda digitale italiana e in questo senso Cagliari nell'ottica della città metropolitana si propone anche grazie a strumenti quali il piano operativo nazionale città metropolitana 2014-2020 quale fattore abilitante per la strategia digitale per l'intera area metropolitana in che modo proponendo progetti già in essere e situazioni virtuose che possono essere d'aiuto per tutte le città che concluiscono nell'area metropolitana il progetto il progetto di reingegnizzazione del portale consegue diciamo a un trend cioè l'amministrazione comunale ha da tempo capito e intrapreso un percorso per ripensare la strategia di progettazione e l'erogazione dei servizi pubblici in rete la trasparenza la comunicazione l'accountability l'ascolto e il confronto rappresentano quindi condizioni abilitanti per la creazione del valore pubblico stiamo lavorando quindi attivamente al nuovo modello di governance attiva e partecipata in modo tale che a favore di cittadini imprese e tutti i portatori di interesse in modo tale da poter creare un nuovo approccio tra stakeholder e la pubblica amministrazione l'obiettivo qual era qual è l'obiettivo è quello di riprogettare l'intero sito istituzionale non solo dal punto di vista grafico ma creare quindi un oggetto unico un oggetto centrale che consenta di approfondire le tematiche di diversi attori che si interfacciano con questo oggetto e che sia soprattutto usabile semplice chiaro ma decisamente utile rappresento un paio di elementi chiave del progetto del portale istituzionale un approccio manageriale al progetto in che senso tutte le amministrazioni sono sempre legate da mille vincoli i tempi le eserce economiche le professionalità l'approccio che è stato è stato importante capire che in realtà l'amministrazione e soprattutto il servizio di innovazione tecnologica da mio diretto non aveva tutte le competenze per portare avanti un certo tipo di progetto e soprattutto avendo a che fare con diverse attività bisognava dedicare un gruppo di lavoro specifico un team composto da personale quindi interno e esterno dotato non solo di know-how elevato ma anche sensibile ai temi trattati e decisamente motivato al risultato l'elemento fondamentale elemento chiave è stato il fatto di poter collaborare con il team e con Agile infatti Cagliari è un early adopter del progetto design system del team digitale e come punto di partenza abbiamo preso il portale istituzionale attuale che ci ha garantito una buona base di partenza e è stato detto già in precedenti interventi la possibilità di lavorare in parallelo con l'attività del team sperimentando e realizzando ciò che il team aveva progettato per verificare qual è il risultato questo ritengo che sia stato un elemento decisivo per il nostro progetto e soprattutto l'uso e la disponibilità su DTAB del lavoro svolto pubblicato su Docs Italia e a disposizione di tutti direi che la prima parte di inquadramento l'ho conclusa e lascerei la parola al mio collaboratore Antonio e sopra Prego, Antonio può cominciare l'intervento, grazie. Buongiorno a tutti, sono Antonio Pascalis, mi occupo di seguire il progetto nella sua realizzazione e ora cercheremo di parlare in dettaglio di quali sono i task, come abbiamo impostato per attività il progetto e le principali attività che sono state previste. Questo progetto è caratterizzato dalla collaborazione con il team digitale Agid, infatti il comune di Cagliari ha condiviso sin dal principio il modello di design system, di designer Italia, che ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi digitali per i cittadini, pensando sulla base dei loro bisogni. Attualmente il team che segue il progetto è in fase di definizione, siamo convinti che sia indispensabile disporre di figure professionali specializzate nei vari ambiti, project management, UI, UX design, e architettura dell'informazione, content design, sviluppo e analysis. Siamo partiti dal punto di partenza che è stato l'analisi delle performance del sito attuale, avendoci di strumenti come Google, Analytics, Matomo e Upjar. L'obiettivo era quello di conoscere le abitudini degli utenti del sito del comune e abbiamo avuto la conferma che gli utenti utilizzano in ugual modo la versione mobile e quella desktop e questo grazie al fatto che il sito era stato progettato a modalità responsive e quindi fruibile normalmente da smartphone. Per conoscere i bisogni degli utenti abbiamo effettuato delle interviste sui seguenti servizi, ZPL, concessione solo pubblico, sistema gestione di ordinanza sul traffico. I risultati li stiamo utilizzando nella progettazione dei relativi scenari e saranno fondamentali per la protettazione degli stessi. Dal confronto sul tema dell'architettatura dell'informazione sono iniziati numerosi e profondamente sulla reale applicazione della tessonomia proposta dal team. Ci siamo confrontati sui 50 tag proposti dal team, li abbiamo analizzati e li abbiamo sperimentati su casi reali. Per testare la validità delle soluzioni proposte nei prototipi che abbiamo realizzato stiamo organizzando una serie di test di usabilità. Il prossimo sarà realizzato alla fine di novembre coinvolgendo i cinque utenti e immaginando tre scenari. Siamo convinti che un progetto importante come questo debba essere compreso e condiviso da chi lo sta mettendo in pratica. Per questo stiamo organizzando una serie di workshop di co-design con i dirigenti del comune per raccontare tutte le soluzioni che abbiamo immaginato e che stiamo per adottare. Quindi per la realizzazione di queste fasi del progetto ci stiamo avvalendo dei kit messi a disposizione del team sulla piattaforma designitalia.it Li abbiamo utilizzati tutti perché l'obiettivo è utilizzare questi strumenti per progettare e disegnare nella maniera più corretta tutto l'intero sito. Operativamente poi ci siamo avvalsi anche di tutta una serie di strumenti che ci hanno aiutato a gestire e ci aiuteranno a gestire al meglio il progetto. Ci stiamo dotando di strumenti di project management stiamo utilizzando Sketch per il visual design stiamo utilizzando Slack per la parte di gestione del progetto stesso e utilizziamo InVision per la realizzazione dei prototipi in Hi-Fi. Adesso vediamo in dettaglio le componenti del progetto Le componenti del progetto sono le seguenti Siamo partiti dai template grafici che abbiamo realizzato sia nella versione mobile che nella versione desktop e sotto vedete anche le indicazioni con i file di InVision dove sono presenti tutti i template del prototipo e potete sicuramente dare uno sguardo andando direttamente ai link sotto indicati. Abbiamo realizzato un prototipo navigabile che trovate al seguente URL prototipo.comune.cagliere.it è composto per ora di pagine statiche che vogliono rappresentare e simulano una versione iniziale del sito partendo dall'home page, le macro aree e alcune altre pagine questo prototipo verrà successivamente implementato e aggiunto di ulteriori parti sin al completamento finale Il CMS che verrà utilizzato è Entando utilizzeremo l'ultima versione di Entando, la versione 5 è uno strumento molto patente e ci darà la possibilità di mettere in piedi il portale completamente perché è uno strumento ideato per la prototipazione rapida delle applicazioni e ci permette anche di scalare molto velocemente le applicazioni stesse Al CMS affiancheremo un potente motore di ricerca che è basato ovviamente sulla tassonomia dei 50 tag e aiuterà l'utente al meglio per muoversi all'interno del nuovo sito istituzionale suggerendo di volta in volta i contenuti più appropriati secondo le scelte fatte L'utilizzo del motore di ricerca affiancato al CMS è fondamentale perché molte volte, come abbiamo visto nella maggior parte dei siti viene messo un motore di ricerca che non funziona e non produce alcun risultato Il nostro obiettivo è creare anche una versione in white label del prototipo e quindi l'intero progetto sarà reso disponibile in tutti i suoi elementi privi della parte locale In questo modo tutte le applicazioni potranno procedere al riuso immediato Tutti gli elementi verranno messi su GitHub e documenteremo questa versione in white label anche su Docs Italia Quindi faremo molto uso degli strumenti messi a disposizione dal team digitale e utilizzeremo GitHub e Docs Italia oltre che alla parte di Forum Italia che ci permetterà di raccontare al meglio il progetto I prossimi passi quali sono? Per gennaio 2019 stiamo progettando il sito Alfa Il sito Alfa è una parte molto embrionale del sito in costruzione e conterrà i template principali A marzo del 2019 stiamo prevedendo di rilasciare il sito Beta e un rilascio finale del progetto lo stiamo ipotizzando per maggio 2019 Il Comune di Calveri aderisce anche al progetto di ioitalia.it e fornirà i dati per l'utilizzo di alcuni servizi sfruttando le open app della piattaforma io per l'invio di notifiche e messaggi ai cittadini Quindi si vuole praticamente unire i due progetti da una parte il progetto del sito istituzionale e dall'altra parte il progetto sui siti, sui servizi del portale e ovviamente combinandoli Per tutte le informazioni sul progetto siamo a disposizione a questi nostri indirizzi mail e soprattutto l'indirizzo del prototipo del Comune di Calveri Grazie Benissimo, grazie mille al Comune di Calveri per questa presentazione è molto interessante questo progetto anche molto bello il prototipo C'è una domanda sul motore di ricerca che avete utilizzato sia open source o meno? Quindi molti ricerzi Sì, dobbiamo ancora ricordare la scelta sarà sicuramente open source sicuramente sarà open source Ok, benissimo quindi ancora in fase di definizione Va bene, per ora non ci sono altre domande quindi passerei all'intervento successivo di Roberta Tassi che già ho visto Ecco Roberta Benissimo, allora a te la parola per parlare di kit di user research e service design Grazie Grazie a te Buongiorno a tutti e concludiamo l'intervento di questa mattina raccontando le attività di ricerca e di coinvolgimento degli utenti che sono stati fatti a supporto del progetto del modello per i siti dei comuni Come sapete il nostro approccio è quello di mettere sempre il cittadino al centro del processo di progettazione dei servizi e quindi anche in questo caso abbiamo pensato a varie attività che potessero produrre le informazioni e le ispirazioni necessarie su cui basare la progettazione del modello è un coinvolgimento continuo per cui come avete visto anche nell'esempio condiviso dai colleghi di Cagliari non si tratta di un unico momento ma di un ascolto continuo delle esigenze degli utenti dei servizi che progettiamo e quindi anche dei siti internet dei comuni nel nostro caso in particolare abbiamo fatto tre attività due che hanno portato all'elaborazione del modello e poi c'è l'attività che ha raccontato prima Antonio Di Cagliari legata ai vari test di usabilità che hanno fatto diciamo raccolta di informazioni e test di usabilità che faranno sul prototipo nel nostro caso specifico il punto di partenza come sapete era già stato fatto un primo diciamo linguaggio che poteva essere utilizzato dai siti dei comuni implementato in diversi casi e quindi siamo partiti proprio dall'analisi dell'esperienza degli utenti con quei siti ed in particolare abbiamo scelto il sito del Comune di Firenze che rappresenta sicuramente una buona pratica dal punto di vista l'implementazione di quel primo approccio e poi abbiamo condotto in collaborazione con i colleghi di Engineering un'analisi più qualitativa sulle esigenze dei cittadini nell'interfacciarsi con questi siti all'interno dei comuni del Veneto questi sono stati dei blocchi di informazioni fondamentali per arrivare all'elaborazione del modello di cosa si tratta nel dettaglio? allora per quanto riguarda i test di usabilità sul sito del Comune di Firenze che abbiamo svolto e che potete considerare diciamo come un esempio di come impostare un'attività del genere quello che abbiamo fatto è stato definirci innanzitutto degli obiettivi quindi ci siamo detti ok vogliamo capire qual è l'esperienza dei cittadini nell'interagire con l'architettura dell'informazione attuale qual è il loro feedback rispetto al modello di interazione alla navigazione dell'interfaccia e poi ovviamente al tipo di contenuti che sta cercando se effettivamente vengono individuati o meno sulla base di questi obiettivi ci siamo chiesti chi dobbiamo coinvolgere questa è sempre la prima domanda nel impostare un'attività di questo tipo nel nostro caso abbiamo deciso di rivolgerci ad un campione molto abbastanza piccolo 10 partecipanti di varie fasce di età in questo caso la segmentazione è stata sostanzialmente tra persone che utilizzano spesso servizi online della pubblica amministrazione perché sicuramente sono degli utenti più esperti della media e poi abbiamo individuato delle persone che magari sono più portate ad utilizzare servizi in digitale non necessariamente della pubblica amministrazione persone che invece preferiscono sono meno abituate all'utilizzo di servizi tra i miei canali digitali e poi in questo caso abbiamo deciso anche di avere delle persone che non utilizzano tendenzialmente servizi in modalità desktop per avere uno spettro diciamo delle diverse modalità ed esigenze e anche appunto attitudini nell'interagire con il sito del comune da lì ci siamo dati questo è quello che abitualmente facciamo nell'impostazione dell'attività una struttura legata ai tipi di test che volevamo effettuare quindi in questo caso quello che abbiamo fatto è stato individuare una serie di task che potessero in qualche modo ricostruire un percorso completo di utilizzo del sito o comunque andare a intercettare diverse criticità possibili quindi li vedete elencati ora abbiamo avuto un task sul raggiungimento degli uffici comunali quindi trovare l'indirizzo di orario d'apertura di un ufficio approfondire un'iniziativa organizzata dal comune comunicare con il comune quindi in questo caso era segnalare una buca su strada rispettare una scadenza e capire come pagare la Tari e poi trovare delle informazioni molto specifiche in questo caso era legato ad un'attività di impresa al task quello che è successo ovviamente durante i test è stato molto interessante vedere come le diverse persone cercavano il proprio percorso all'interno del sito per ciascuno di questi task e poi in generale catturare anche un'opinione più generale più quasi qualitativa sull'attitudine che i cittadini hanno rispetto a questi servizi vedete qui ad esempio una citazione che ci è piaciuto riportare fin da subito questo ragazzo giovane che diceva per me il sito del comune è importante perché se vedo che la mia città ha un sito al passo con i tempi significa che appunto vivo in un posto innovativo in qualche modo il test ci ha portato a evidenziare alcune criticità sul modello esistente che sono diventati per noi degli aspetti diciamo migliorabili del modello su cui costruire il nuovo progetto quindi ad esempio uno dei temi emersi era la necessità di avere degli elementi di menu quindi di navigazione diciamo visibili direttamente all'interno della pagina e non sempre dover andare a cercare le voci e navigare la navigazione di primo e di secondo livello all'interno del menu oppure vedendo per esempio la struttura da mobile vedete qui rappresentata le notizie e le novità del comune occupavano una parte molto importante della pagina molto lunga e quindi diversi utenti non arrivavano mai a scrollare fino al momento di visualizzare i servizi e così via questi sono stati un po' un indice di elementi a cui prestare attenzione nel diciamo andare a progettare il nuovo modello un altro tema importante per esempio è stato quello che abbiamo visto poi in molti casi di siti di comuni che c'è sempre un link spesso un link esterno verso un portale dei servizi e tutti questi link però possono essere in qualche modo descritti meglio in modo da orientare meglio l'utente prima di arrivare a cliccarci e soprattutto se si tratta di servizi e questo per noi come avete visto nel racconto di Lorenzo è stato molto importante quando si tratta di servizi serve spiegare quali sono le cose da fare prima di portare ovviamente al collegamento e questo è diventato un principio importante per arrivare a strutturare la pagina che è stata proposta come template di pagina di servizio ecco questo per dirvi come abbiamo sfruttato questa piccola attività di test disabilità per estrarre dei principi che potessero guidare la nostra progettazione ed è stata un'attività svolta in un paio di giornate quindi anche diciamo abbastanza compressa nel tempo un'altra attività parallela un po' più lunga è stata quella svolta nei comuni del Veneto che sostanzialmente in questo caso si è basata su un tipo di ricerca più in profondità diciamo nel senso che in questo caso sono state fatte delle attività di osservazione in contesto e di interviste uno ad uno proprio per andare a capire quali sono i servizi prioritari per i cittadini nell'interazione con il sito di un comune quindi lo studio in questo caso è durato a livello di ricerca circa tre settimane che ha convolto cinque comuni del Veneto Legnago Padova Bassano del Grappa Tiene San Donà selezionati rispetto appunto a diverse diciamo caratteristiche sia come dimensione che come specificità del territorio ecco in questo caso il team di ricerca ha svolto dell'osservazione all'interno degli uffici comunali per poter in qualche modo vedere che cosa succedeva e intercettare delle persone a cui fare delle domande oltre che intervistare le persone che lavorano allo sportello e poi in contemporanea sono state svolte queste interviste individuali nelle interviste sono state selezionate un campione di persone totali di 25 cittadini quindi vedete il numero è aumentato e le interviste sono state svolte direttamente a casa delle persone che hanno si sono offerte diciamo rese disponibili per partecipare all'attività l'importanza di queste interviste in un percorso di questo tipo è fondamentale proprio per avere il tempo di mappare nel dettaglio l'interazione di queste persone con gli uffici comunali e le aspettative che hanno nel momento in cui decidono di aprire il sito internet e devono svolgere delle attività online quindi diciamo come tempo duravano un'ora e mezza circa l'una proprio per avere lo spazio necessario per entrare nel dettaglio di queste interazioni vedete in un'immagine sul divano ci sono varie card che rappresentavano una serie di servizi utili al cittadino e che cercavamo di priorizzare con le persone intervistate per capire dove effettivamente ha senso concentrare di più di sforzi per cercare di digitalizzare quell'esperienza rispetto a quello che invece viene già fatto dagli altri uffici di relazione con il pubblico o comunali da questa ricerca sono emerse una serie di aspettative molto interessanti nel momento in cui andiamo a pensare a che sito internet vogliamo costruire e quale ruolo deve avere in questo caso ad esempio quindi le aspettative emerse sono quella di una pubblica amministrazione proattiva che orienta le persone e quindi per cui non devo sempre essere io come cittadino ad andare a cercare ciò che mi interessa ma in qualche modo è la pubblica amministrazione che sa che cosa propormi e quindi mi offre in modo automatico i servizi e informazioni che interessano rispetto alla mia situazione la digitalizzazione come opportunità per dare valore all'esperienza allo sportello questo è un punto fondamentale nel senso che effettivamente molte persone preferiscono rivolgersi allo sportello o in generale ognuno di noi in alcuni momenti ha bisogno di un'interazione di tipo diretto però il canale digitale può migliorare in qualche modo questa interazione ad esempio agevolando la prenotazione di appuntamenti o dandomi già le informazioni necessarie rispetto a quello che dovrò fare nel momento in cui mi presento all'ufficio comunale altro tema chiave è la disintermediazione dei professionisti cioè spesso quello che ci chiede di fare un comune è descritto come qualcuno prima diceva è un burocratese comunque ci sono delle procedure così complicate o descritte in modo molto complesso per cui come cittadino sono poi in qualche modo costretto a affidarmi a dei servizi di intermediazione di intermediazione per aiutarmi a svolgere quella pratica ecco il digitale in questo può essere molto d'aiuto nel cercare di dare delle istruzioni più chiare semplificare e assistere in modo da rendere i cittadini più autonomi un altro aspetto interessante ovviamente è quello dell'integrazione di dati tra più enti uffici sappiamo benissimo che spesso ci ritroviamo a dare le stesse informazioni più volte a uffici diversi o quante volte appunto rimettiamo gli stessi dati in questo senso la prospettiva del cittadino è quella di rivolgersi ad un soggetto unico la pubblica amministrazione e quindi l'aspettativa è quella di avere un dialogo tra i sistemi in modo da poter in qualche modo ridurmi renderli più efficienti ridurre lo sforzo che il cittadino deve fare per dare queste informazioni di volta in volta e snellire il processo da questa ricerca sono ovviamente l'obiettivo principale era quello dell'individuazione dei servizi prioritari per diciamo in funzione della progettazione del sito internet di una erogazione digitale del servizio stesso e questa è un po' diciamo la lista che è emersa da questi incontri proprio nell'ordine prioritario diciamo riconosciuto dai di prioritario riconosciuto dai cittadini vedete ad esempio la prenotazione degli appuntamenti che ci riporta a quel tema di facilitazione dell'esperienza allo sportello è stata sicuramente uno dei punti chiave pagamenti di servizi di segreteria anagrafe segnalazione di problemi su territorio interazione con i servizi legati all'educazione trasporti e così via li vedete qui listati sulla base di questa lista è stato possibile fare una serie di considerazioni collegate a dei temi di pattern che potrebbero essere sviluppati diciamo in modo più o centralizzati come l'esperienza ad esempio di interazione con l'anagrafe sappiamo che il progetto dell'anagrafe nazionale può intervenire in alcune tematiche collegate e altre cose che invece ovviamente ha molto senso che si svolgano sul sito del comune e che vengano risolte a quel livello chiudo questo intervento raccontando brevemente quali sono i kit di riferimento se volete replicare questo tipo di attività come nel caso del progetto dell'attività di ricerca che abbiamo visto nei corsi della presentazione i riferimenti per noi sono il kit che trovate nei kit di designers dedicato alle user interviews e il kit dedicato agli usability test in particolare vediamo quello delle interviste utente che sono quelle che sono state svolte ad esempio in Veneto e che sono queste sessioni di ricerca qualitativa individuale in cui il progettista incontra delle persone una alla volta e con questi partecipanti si entra nel dettaglio delle loro esigenze delle loro motivazioni dei bisogni che hanno e di come poter soddisfare queste necessità quindi come avete visto nel caso del Veneto queste interviste chiedono tempo e vengono tendenzialmente svolte in un contesto che è un contesto in cui la persona si sente a proprio agio quindi in quel caso è proprio per questo motivo che sono state svolte andando a casa delle persone nel kit trovate tutti i materiali utili per fare recruiting preparare l'intervista e poi condurre l'attività il recruiting è quell'attività di selezione dei partecipanti quindi come nell'esempio citato c'erano 25 partecipanti in 5 luoghi quindi diciamo 5 per per città e dei criteri di selezione stabiliti a monte dal team rispetto ad esempio età o altre caratteristiche non solo sociodemografiche che ci interessano e quindi viene fatto un questionario online un breve questionario online mirato a individuare le persone interessanti da poter poi intervistare nel kit c'è poi appunto qui vedete un esempio di come viene preparato questo questionario lo trovate già impostato all'interno del kit quindi si può prendere quello editare e poi pubblicare ad esempio utilizzando un survey su google o su typeform o altri servizi sempre nel kit trovate una struttura diciamo predefinita per un'intervista anche questa da editare ovviamente e da modificare a seconda delle domande specifiche che volete diciamo che vi servono nel contesto in cui state operando e sempre nel kit c'è un documento di google slide molto utile per avere un template predefinito per la presentazione dei risultati costruendo delle slide simili a quelle che vi ha mostrato ad esempio Lorenzo in cui raccontavamo i risultati delle attività da cui siamo partiti per il progetto anche questo è disponibile e facilmente utilizzabile poi come sapete questi kit sono sempre corredati dalle linee guida che permettono di entrare più nel dettaglio di alcuni temi quindi come costruisco nello specifico una guida alla discussione per una conversazione di un'ora che tipo di moduli devo portare con me e così via e sul blog pubblichiamo costantemente dei casi studio in cui questi kit vengono messi in pratica trovate ad esempio quello che era stato fatto con le interviste utenti con esercizi di card sorting per il comune di Biella e a breve pubblicheremo anche una descrizione delle buone pratiche emerse nel fare ricerca con i comuni del Veneto l'ultimo quello sullo usability test ovviamente in questo caso anche in questo caso abbiamo messo a disposizione dei materiali per svolgere queste sessioni di diciamo validazione del sito esistente o del prototipo che stiamo costruendo queste sono delle sessioni più brevi perché in questo caso non abbiamo bisogno di diciamo tenere con noi le persone per un tempo così lungo come durante un'intervista ma possiamo in tendenzialmente mezz'ora più o meno partecipante far svolgere una serie di tasca e di domande collegate e sempre su Designers Italia trovate tutti i materiali utili per la preparazione di questi test la conduzione dei test e poi l'analisi dei risultati un punto molto importante sia per dei kit diciamo di intervista che di quelli di usabilità e che ci sono anche dei materiali come la liberatoria per il contesto di trattamento dei dati che sono stati aggiornati rispetto alle nuove norme GDPR e che quindi ci permettono ovviamente di avere il consenso delle persone per l'utilizzo ovviamente delle immagini ad esempio fotografiche che vengono raccolte durante l'attività o del video che vengono registrati diciamo senza fare nessun tipo di azione che non sia ovviamente legale e anche nel caso dei test di usabilità c'è una linea guida molto dettagliata ispirata al prototollo IGLU che racconta nel dettaglio come svolgere questa attività quindi non solo gli strumenti già fatti e pronti da editare con i vari programmi da Word al Google Doc a seconda di quello che preferite o in slide ma anche delle indicazioni molto più specifiche e dettagliate per chi vuole approfondire e capire nel dettaglio quali sono appunto le tecniche e l'approccio nello svolgere queste attività e come in questo caso come nel caso precedente sul blog di Designers trovate i riferimenti a dei case study quindi situazioni pratiche in cui questi sono stati applicati e a cui invitiamo poi chi di voi si diciamo mette alla prova e applica questi strumenti e questa metodologia all'interno del vostro percorso di lavoro a contribuire segnalandoci le vostre esperienze grazie credo di aver di aver finito e siamo forse quasi alla fine del webinar